Questo programma è offerto da S. Caffè, espresso in Italy. Consorzio italiano della mozzarella. Via Cavaliera Angelo Manzoni, 39 a Sant'Angelo Lodigiano. Telefono e fax 0371 21 93 42. Salomificio Bertoletti. Via delle Boschine 6, Graffignana Lodi. Telefono 0371 88 84 6. Vendita all'ingrosso e vendita diretta a chilometro zero. Dalla produzione alla vostra tavola. Buongiorno a tutti, un saluto dallo chef Luca del ristorante Rondò di Lodi. Oggi insieme prepariamo un primo della tradizione italiana con molte varianti, però noi la prendiamo molto classica. Abbiamo uno spaghetto alle vongole veraci. Allora, come ingrediente abbiamo, beh, gli spaghetti, poi abbiamo le vongole veraci di due tipi. Usiamo le vongole veraci e i lupini. Il lupino è un po' più piccolino, ma è molto saporito. Poi abbiamo del vino bianco, del prezzemolo, uno spicchietto di aglio e infine, se si vuole, una macinata di pepe fresco macinato. Insieme andiamo a preparare il piatto. Allora, andiamo a preparare gli spaghetti alle vongole veraci. Mettiamo a bollire acqua e con un cucchiaio di sale grosso. Prendiamo i nostri spaghetti e li mettiamo in pentola. Mi raccomando, senza romperli. Molta gente, siccome non ci stanno in padella, in pentola, così li spezza a metà, no. Lo spaghetti è rigorosamente intero. Però poi ognuno a casa sceglie come vuole, senza alcun problema. Però diciamo che così sarebbe meglio. Allora, nella padella ho messo olio con l'aglio. All'inizio avevo detto che ci voleva un spicchio di aglio in camicia. Io mi preparo sempre, per il mio ristorante, una pentola di olio con l'aglio in emulsione. In emulsione lo faccio cuocere praticamente mezz'oretta in camicia, quindi non c'è il rischio che bruci e niente. Però lo faccio cuocere una mezz'oretta, così che l'olio diventa profumato all'aglio. Io durante il servizio non ho da star lì a sbucciare l'aglio e varie cose. E diciamo che il risultato è migliore. Quindi potete farlo benissimo anche voi, senza alcun tipo di problema. Allora, accendiamo la padella. Mi raccomando, spadelliamo bene le vongole. Andiamo a prendere le vongole che abbiamo precedentemente messo in acqua, con del sale. Poi va cambiata l'acqua più e più volte. Ci vogliono più o meno un due o tre ore di ammollo. Mi raccomando, teniamole in frigo, con l'acqua e il sale, così non andiamo a rischiare di farle morire. Allora, sentiamo che inizia a scoppiettare. Piano piano, quando inizia bene bene a scoppiettare, prendiamo il nostro vino bianco. Eccoci qua. Sentiamo anche il profumo dell'aglio, senza aver il problema di ingerirlo. Quindi il profumo è ottimo e uniamo l'utile e il dilettevole. Uniamo le nostre vongole con il vino bianco. Aggiungiamo un pizzico di prezzemolo, ma proprio un pizzico il resto lo teniamo dopo quando le andiamo a spadellare. un goccino di acqua di cottura della pasta. Le copriamo. Anche se il coperchio va vicino, non è un problema, meglio, così si aprono più veloce. E le facciamo aprire. Ma da aprire ci vogliono tre minuti, tre o quattro minuti, neanche tanto. Sono passati tre o quattro minuti. Le vongole, come vedete, sono aperte. Eccoci qua. Allora, non ci sono residui di sabbia, le vongole sono tutte aperte, quindi non abbiamo problemi. Ma vi svelo un trucco. Se vedete che c'è un po' di sabbia nella padella, facciamo questo lavoro. Raccogliamo le vongole. Così. In questa maniera. Capita che rimane della sabbia, perché purtroppo le vongole, essendo vive, quando le facciamo spurgare, anche se le facciamo spurgare bene, a volte magari qualche residuo di sabbia rimane. Però cosa succede? La sabbia rimane sul fondo. Quindi noi versiamo piano piano la sua acqua di cottura e come vedete qualcosa rimane. A questo punto ci fermiamo tanto l'acqua di cottura è abbastanza e non rischiamo di avere della sabbia nella nostra nella nostra padella. Prendiamo gli attrezzi per collare la pasta. Vediamo a che punto siamo. perfetto. Gli spaghetti cuocano una decina di minuti. Io considero sempre di tirarle giù qualche minuto prima perché poi li finisco di cuocere in padella così il sapore rimane finisco di cuocere in un sughetto saporito. Ecco insomma. Allora andiamo a collare la pasta facendo attenzione a non scottarci. eccoci qua. Eccoci qua. Accogliamo e andiamo a spadellare le nostre vongole. Eccoci qua. Spadelliamo spadellando le nostre vongole. Non vi preoccupate che ci sia ancora un po' di liquido. Tanto abbiamo lasciato appunto gli spaghetti al dente per questo motivo perché finendo di cuocere nella padella si insapoliscono bene di vongole. Ci siamo quasi. Allora in molti mettono una noce di burro quando spadellano le vongole perché dicono che forma una salsina. allora che fa formare la salsina non è il burro ma è l'amido della pasta di conseguenza noi abbiamo già la pasta con l'amido è inutile andare a aggiungere un grasso come il burro che è molto anche saporito e quindi si rischia di poi mangiare uno spadellato le vongole che sappia di burro e secondo me non è una cosa una cosa buona poi ognuno sceglie per sé ci siamo quasi il profumo come sempre è veramente inebriante si sente bene il sapore del mare come vedete la salsa è omogenea e non è liquida ma è cremosa sempre per il discorso di prima questo succede perché finendo di cuocere la pasta in padella l'ultimo amido che ha dentro di sé la pasta lo manda fuori e creiamo questa salsina ovviamente le porzioni che abbiamo fatto sono per due persone bene o male in casa quando si mangia due siamo sempre in due due tre quattro per fare quattro porzioni basta solamente raddoppiare un po' le dosi attenzione a raddoppiare la pasta calcolate sempre che la pasta è abbastanza pesante quindi non andiamo a fare troppe dosi troppo grandi perché poi si fatica a finirle molte vongole sono uscite dal guscio si può scegliere di fare due cose tirarle via dal piatto oppure lasciarle che fanno comunque sono sempre belle da vedere la scelta è vostra io le lascio sempre anche perché le vongole sono nella pasta quindi non è che uno poi dice mi hai dato solo le vongole i gusci ma c'è dentro tutto allora qua abbiamo completato ci mettiamo un filino sempre di olio extravergine perché sul pesce è la sua morte una macinata di pepe se preferite oppure di peperoncino come preferite voi spolverate di prezzemolo fresco eccoci qua e ci siamo io vi ho detto tutto mi raccomando l'olio con l'aglio che vedrete che fa un ottimo risultato spadellato e servito buon appetito questo programma è stato offerto da S Caffè espresso in Italy Consorzio Italiano della Mozzarella via Cavaliera Angelo Manzoni 39 a Sant'Angelo Lodigiano telefono e fax 0371 2193 42 salomificio Bertoletti via delle Boschine 6 Graffignana Lodi telefono 0371 88 84 6 vendita all'ingrosso e vendita diretta a chilometro zero dalla produzione alla vostra tavola